Trivelazioni in Adriatico, la regione si schiera a favore delle isole Tremiti e il prossimo 29 gennaio il presidente dell'UPi Puglia Gabellone ha chiamato a raccolta comuni e province. Ancora una volta no perché puntiamo proprio su un altro tipo di sviluppo della nostra regione e purtroppo le trivelazioni si stanno predisponendo proprio nei luoghi che sono turisticamente più rilevanti, dalle Tremiti fino a Santa Maria di Leuca. Noi abbiamo impostato una strategia di sviluppo economico con gli imprenditori, con le istituzioni, con gli enti locali fondata appunto sul turismo e sulla manifattura sostenibile. Le trivelle in qualche modo incidono negativamente su questo piano di attività perciò io credo che ci vuole una grande mobilitazione per dire no si faccia altrove questa attività specialmente laddove il petrolio non fa altro che abbassare il proprio prezzo e non essere più quel combustibile tanto attraente quanto era in passato. Quindi falliremmo due volte, rovineremmo lo sviluppo del turismo e della cultura e andremo su un mercato che non ha più mercato.